Ora parliamo un po' della mia storia, di alcune cose che ho imparato, che hanno contribuito al mio successo nel marketing di rete. Quando avevo 27-28 anni guadagnavo 30.000-35.000 dollari al mese, che all'epoca era un bel mucchio di soldi. Riuscivo a guadagnarle grazie alle cose che avevo imparato, cose che riguardavano il marketing di rete. Il fatto che si possa costruire qualcosa di incredibile partendo da molto poco, il fatto di cominciare con una persona alla volta, che poi diventavano due, poi tre, e men che non si dica vi ritroverate ad avere quattro o cinque persone nella vostra organizzazione. All'inizio cominciate con cinque o dieci clienti, che poi diventavano quaranta, cinquanta, poi cento. Questo principio di crescere persona dopo persona è estremamente potente. E poi per questo Mark l'ha scelto come metodo di vendita. Ma parliamo un po' della foliosofia di Mark Hughes. Vorrei parlare di alcuni aspetti della filosofia aziendale. Vorrei parlare di alcuni aspetti della mia filosofia personale, che a mio parere renderanno questo nostro incontro molto molto utile. Prima cosa vediamo brevemente la filosofia individuale, che ha segnato una svolta nella mia vita. numero uno, se volete avere successo, dovete acquisire diverse capacità. Questo mi è stato insegnato quando avevo venticinque anni. Una delle mie prime capacità in fattoria era a saper mongere le mucche. Non era granché redditizio. A venticinque anni il mio mentore mi disse, devi imparare più di una tecnica. Soprattutto ora, che stiamo entrando nel terzo millennio, se volete dare un buon consiglio personale a qualcuno che vi chiedesse, a quanto pare hai un discreto successo, che consiglio mi dai? Perché abbia successo anch'io. Voi dovete dirgli questo. Nel ventunesimo secolo ci saranno delle fantastiche opportunità, non solo in Cina, ma anche nel resto del mondo. Ora che la democrazia e libertà stanno prendendo piede in tutto il mondo, ora che il capitalismo, ossia cominciare con poco e creare servizi per il mercato, è accettato ovunque. Per il nostro nuovo millennio si prospettano opportunità illimitate. Questo vale in particolare per Herbalife, perché il mercato per i prodotti Herbalife è più vasto di quanto possiamo immaginare. Poco fa qualcuno mi ha detto un miliardo all'anno di vendite non è una cifra enorme. Io gli ho risposto sì, ma rispetto al mercato mondiale. È come un granello di sabbia in una spiaggia. E due miliardi di dollari l'anno? Sono due granelli di sabbia, se paragonati al mercato potenziale del pianeta. Se passiamo a tre miliardi equivalgono a tre granelli di sabbia. Herbalife non è in grado di tenere testa alla crescita del mercato. Abbiamo cominciato a vendere i prodotti Herbalife 21 anni fa in America. Oggi in America ci sono più persone sora a peso di quante ce ne fossero 21 anni fa. E in America gli affari vanno bene per noi. Il fatto è che abbiamo soltanto sfiorato quell'opportunità riguardo al mondo nel suo insieme. Credo che il nuovo secolo sarà ricco di opportunità per Herbalife. Però si tratterà di opportunità insolite. Ecco cosa dovete fare per approfittarne. Numero uno, abilità molteplici, saper fare più di una cosa. Quando ho conosciuto il marketing di rete ho cominciato a imparare determinate tecniche. La prima è stata come fare una vendita, come trovare un cliente. Ho imparato quella tecnica rappresentando il mio prodotto sul mercato, convincendo la gente a dire d'accordo userò il tuo prodotto. Dunque le mie capacità sono diventate due, mungere e vendere. Indovinate quale conveniva di più. Realizzare vendite, trovare clienti. Poi ho imparato a reclutare, a sviluppare un'organizzazione, a mostrare ad altre di questa opportunità. Come collaborare con l'azienda. Così si impara a reclutare le persone, a incoraggiarle, a fare quello che volete fare voi. Se uno guadagna 100 dollari extra alla settimana vendendo prodotti Herbalife è molto facile far vendere a qualcuno come guadagnare quei soldi. In modo tutto sommato semplice. A imparare a conoscere i prodotti, a parlarne con gli altri. Il piano di marketing che c'era inizialmente prevedeva soltanto due cerchi. In uno c'era scritto, questo sei tu che puoi vendere i prodotti e guadagnare. Nell'altro puoi produrre questa attività a qualcun'altro. Aiutarlo a vendere i prodotti, a guadagnare. In quel caso l'azienda ti dà qualcosa di più. All'inizio era così. L'unica cosa che domandai fu quante persone posso reclutare e addestrare a fare come me in modo che possa guadagnare di più? E la risposta fu quante ne vuoi. Puoi portare tutte le persone che vuoi. Il mio commento fu, allora diventerò molto ricco. Se non c'è limite al numero di persone che posso reclutare e addestrare a fare come me in modo da avere un guadagno extra e quindi non guadagno soltanto sulle mie vendite personali ma anche sull'extra che l'azienda mi dà per avere coinvolto quelle persone. Se non c'è limite, dissi diventerò molto ricco. Mi bastò questo dettaglio del sistema di vendita per essere entusiasta del reclutamento. Il reclutamento è fatto di tre cose semplici. Una è invitare gli altri a considerare l'opportunità. Ovviamente i primi ai quali mi sono rivolto sono stati parenti e amici. Allora dissi per me non è importante che aderiate a quello che vi propongo. Non è importante che compriate. Per me è importante che diate un'occhiata. Perché fra un anno, se le cose vanno bene, non vorrei sentirmi dire perché non mi hai detto niente? Perché non mi hai parlato di questa opportunità? Siccome non voglio che tra un anno succeda una cosa del genere, mi piacerebbe che deste almeno un'occhiata. Non avrò problemi a trovare persone disposte, quindi non è importante che mi diciate di sì. Quello che mi preme è che diate un'occhiata. Così ho imparato a fare un buon invito. Mi faccio un altro esempio di buon invito. Parlando con qualcuno dicevo hai trovato un'opportunità che sia veramente capace di determinare il futuro economico tuo e della tua famiglia. Hai trovato un'opportunità che garantisca la sicurezza economica a te e alla tua famiglia? Se la risposta era no, partivo con la seconda domanda. Stai cercando seriamente un'opportunità che garantisca la sicurezza economica a te e alla tua famiglia? Se ottenevo una risposta negativa, dicevo lascia che ti dia un consiglio, forse il migliore che tu abbia mai ricevuto. Credo che sia un ottimo consiglio, perché è quello che è stato dato a me. Se non hai trovato un'opportunità che garantisca la sicurezza economica a te e alla tua famiglia, il consiglio che ti do è di cominciare a cercarla veramente. Ogni settimana dovresti dedicare del tempo a cercare quell'opportunità che garantisca la sicurezza economica a te e alla tua famiglia. È il consiglio che è stato dato a me e che mi ha aiutato a trovare in fretta l'opportunità Herbalife. Io voglio darti lo stesso consiglio. Cerca seriamente. Di ai tuoi familiari, sto ancora cercando l'opportunità che ci darà la stabilità economica per il resto della vita. La sto cercando seriamente. Perciò se decidessi di accettare il mio consiglio e metterti a cercare, io potrei già proporti la mia opportunità. Se hai un po' di tempo possiamo sederci a parlarne. Se hai tempo puoi venire a un incontro dove presentiamo l'opportunità. Se una volta considerata questa opportunità pensi che non faccia per te, ti consiglio di continuare a cercare finché non trovi quella giusta per te e la tua famiglia definitivamente. Questo era uno dei mie inviti. quindi ho imparato a fare inviti. Poi ho imparato che c'erano due tipi di incontri, due tipi di presentazioni. Una era la presentazione informale a quattro occhi ovunque al tavolino in un bar davanti a un caffè colloquio individuale diretto. Questo perché il piano Herbalife è molto semplice. Potete vendere il prodotto, potete produrre anche ad altri di venderlo. Insegnare come si fa a realizzare qualche centinaio di dollari extra. Loro guadagnano dalla vendita ma anche voi guadagnate. È davvero semplice spiegare il piano. Poi ci sono incontri formali che voi conoscete molto bene. C'è una persona che racconta la storia dell'azienda, una persona che presenta i prodotti, un'altra che vi spiega il piano di vendita e alla fine si chiede ai presenti di prendere in considerazione l'idea di lavorare con Herbalife. Quindi ho imparato a reclutare. Per prima cosa ho imparato a vendere una svolta dal punto di vista del reddito. Secondo ho imparato a reclutare ottenendo risultati economici ancora migliori. Vediamo quante cose ho imparato. Tre, mungere mucche, vendere prodotti, reclutare persone. Passiamo alla terza capacità che ho dato un grande contributo al mio lavoro, l'organizzazione. Una volta reclutate 4-5 persone bisogna farle lavorare insieme, perché il lavoro di squadra è un'arma vincente in Herbalife. Voi questo lo sapete già, visto che siete cresciuti così in fretta. Far lavorare insieme le persone, parlare delle sue stimonianze. Ipotizziamo che facciamo un piccolo incontro. Tu hai invitato due persone, io ne ho invitate altre due. Al termine dell'incontro i miei invitati hanno ne accettato e io chiedo loro, cosa vi ha spinto ad accettare? La risposta potrebbe essere, è stata la testimonianza del suo collega. La storia che ci ha raccontato. Forse la mia testimonianza sarebbe stata sufficiente, ma quella storia in più, lavorare insieme a qualcun altro, quello è stato il fattore decisivo. Lavorare insieme è efficace perché possiamo condividere le testimonianze. Noi non sappiamo quale storia sarà più convincente, ma resta il fatto che ci aiuta a convincere qualcuno ed accettare la proposta. Quindi lavorare insieme dà più potere, più entusiasmo. C'è un vecchio detto che fa, se in due o in tre condividono un obiettivo, niente è impossibile. Il potere di due o di tre persone. Non ve ne servono duemila, tremila, bastano due o tre che dicano facciamolo. E questo è l'incentivo più efficace, specie negli affari. Non è fallo tu, ma facciamolo. Facciamolo io e te. Mettiamoci in forma io e te. Appena vi sono stati presentati prodotti Herbalife, potete cominciare a venderli prima ancora di aver ottenuto dei risultati. Come si fa? Parlate dei risultati che prevedete. Ho scoperto questo prodotto incredibile e dalle testimonianze che ho sentito e ho letto, sono sicuro che otterrò risultati strepitosi. Perché non cominci a usarle insieme a me? Il giorno stesso in cui vi parlano di Herbalife, potete cominciare subito a vendere. Appena diventate distributori, potete cominciare a reclutare. Ho appena scoperto questa opportunità e penso che sia la migliore opportunità economica che sia mai capitata. Non ti piacerebbe provare? Potete fare reclutamento subito. Appena saputo dell'opportunità, potete già proporla a qualcun altro, parlando dei risultati che prevedete. Ho idea che otterrò risultati strepitosi con questi prodotti e ho idea che questa sia l'opportunità che mi darà la sicurezza economica. Perché non provi anche tu? È di grande efficacia. Ho imparato quindi a reclutare, ho imparato a vendere, ho imparato a organizzare, a far lavorare le persone insieme. Poi c'è un'altra capacità che mi ha aiutato moltissimo e questa è la promozione. La promozione è composta da tanti elementi. Uno dei più importanti è il riconoscimento. Cosa ho imparato? Che l'azienda premia i distributori che raggiungono traguardi importanti? Voi dovete imparare a premiare le persone anche per i piccoli successi. Ai grandi successi ci pensa l'azienda. Voi dovete trovare dei modi per premiare i piccoli successi. Se un vostro distributore trova cinque clienti in una settimana, cercate un modo per premiarlo, per gratificarlo. Il mese scorso questo mio distributore è risultato il numero uno. Possono esserci diversi numeri uno. Non solo in Herbalife, non solo nello Stato, non solo nell'organizzazione, ma nel vostro gruppo, il numero uno del mese scorso. Questa persona il mese scorso era terzo. Questo mese è primo. Riconoscimento. Fate vedere che apprezzate. Magari mandate un biglietto di ringraziamento. Poi ho imparato anche a promuovere gli eventi dell'azienda. E arriviamo così al prossimo punto. L'azienda Herbalife. Parleremo anche di New York e della costa orientale. Parleremo dell'estravaganza. Quindi promuovere le piccole cose, se ottieni questo, riceverai questo. I piccoli progressi e poi i progressi più grandi ai quali pensa Herbalife. Allora quante capacità ho acquisito? Mungere mucche, vendere prodotti, reclutare, organizzare, muovere. Ho cinque capacità. Se sapete fare soltanto una cosa, siete molto vulnerabili economicamente. Economicamente molto vulnerabili con una sola capacità. Voi state offrendo un'opportunità unica all'insegnamento e la formazione per aiutare le persone a fare più di una cosa. Sul mercato nessuno offre un servizio migliore del vostro. Proponete dei prodotti che migliorano il benessere. Consentire di imparare diverse abilità e di entrare a fare parte di quest'azienda. Passiamo a una cosa che ho imparato. La capacità di comunicare. Influire sulle persone con il linguaggio, con le parole. Usare il linguaggio per creare un'immagine, i cui particolari sono riconoscibili solo alla fine. Il linguaggio produce il miracolo della visione. Essere capace di vedere perché si può vedere in tanti modi. Uno è vedere con gli occhi, un altro è vedere con la mente. Vedere con gli occhi si chiama vista. Vedere con la mente si chiama comprensione. A volte una persona chiude gli occhi e dice, ora è tutto chiaro, lo vedo. Come fai a vedere chiaro se hai gli occhi chiusi? C'è anche un altro modo di vedere. Non vediamo solo con gli occhi, si può vedere anche con la mente. Il linguaggio può fare proprio questo, aiutare gli altri a capire, aiutarli a comprendere l'opportunità. Può capitare che vi dicano, prima di incontrarti ero cieco, non vedevo. Ora che ho parlato con te comincio a vedere. Cosa vogliamo che veda la gente? Numero uno, il problema. Perché il nostro compito è risolvere i problemi? 5 kg sovrappeso? Comincia a essere preoccupante. 10 kg sovrappeso? Decisamente preoccupante. 15, 20 kg, 25 kg. Un livello di allerta. 25, 30 kg sovrappeso? Pericolo, pericolo. C'è spazio per Herbalife? La risposta è sì. Oggi milioni di persone hanno bisogno dei prodotti che voi vedete. Proprio nella zona dove vivete, soprattutto nella costa orientale degli Stati Uniti. Milioni di persone ne hanno bisogno. Prima di tutto, quindi aiutiamo la gente a comprendere il problema. Ai vostri amici dovete dire, non hai ancora deciso di prendere quel paese? Ti consiglio di farlo. Ho saputo una storia e raccontate la storia, quella della dottoressa Jamie o altre che spiegano quanto sia pericoloso essere sovrappeso. Noi li aiutiamo a capire il problema. Secondo, li aiutiamo a vedere soluzioni. Facciamo conoscere i prodotti Herbalife. È qui che entra in gioco la filosofia di Mark Hughes. Numero uno, Marco voleva il meglio. qualcosa di completo. Herbalife è così completo che in alcuni paesi Formula 1 si chiama sostituito del pasto. Non può essere un sostituto del pasto se non è completo. Non può soddisfare solo metà del fabbisogno, deve soddisfarlo tutto. Non può coprire solo una parte. Tanti dicono bisogna prendere le vitamine, ma non basta prendere solo le vitamine. Certo un'integrazione di vitamine è utile, ma se vuoi perdere qualche chilo usando un sostituto del pasto questo deve essere completo. La prima cosa quindi è far capire alle persone che il prodotto Herbalife è completo. Non solo è il migliore, è completo. Quando dite loro che è completo qualcuno potrebbe obiettare, perché dovrei crederti? Se non mi crede c'è solo una cosa che deve fare. Prende il prodotto e lo faccia analizzare da un laboratorio. Costi quello che costi. Alla parola di un laboratorio ci crederà, spero. L'unico modo per essere sicuri è farla analizzare il prodotto. In caso contrario deve fidarsi della mia parola. E visto che abbiamo 21 anni di storia, che ci sono testimonianze fantastiche, che godiamo di una grande reputazione, che da 21 anni affermiamo che è completo, se non fosse stato così saremmo scomparsi subito dal mercato. Quindi le consiglio di credermi. È completo. Sul lato commerciale invece dovete aiutarli a capire cosa manca loro in fatto di condizione economica. Ecco delle buone domande da fare. Ha trovato un'opportunità che garantisca la sicurezza economica a lei e alla sua famiglia. Se non l'ha trovata, si sta dando da fare per cercarla. Noi vogliamo che comprendano il problema. Non sappiamo come sarà la situazione economica. Quest'anno, il prossimo anno, il prossimo ancora. Meglio cercare subito la stabilità economica che rischiare a affrontare il futuro incrociando le dita. Perciò noi li aiutiamo a capire le necessità dei prodotti, li aiutiamo a capire la necessità delle opportunità e poi li aiutiamo a capire le risposte che Herbalife offre in termini di prodotti e li aiutiamo a capire la soluzione dell'opportunità economica. Sapete qual è il modo migliore per presentare Herbalife? Sia in termini di prodotti che di opportunità. Le testimonianze. Ecco cosa vi chiedo di fare. Primo, create la vostra testimonianza di successo con i prodotti. Credete la vostra testimonianza di successo con l'attività. Non solo perché possiate usarla voi, ma per arricchire con una nuova testimonianza la banca di Herbalife delle testimonianze. Ora, prendete nota, creare testimonianze costa fatica. Dovete sempre fare più di quello per cui siete pagati. Sempre più di quello per cui siete pagati. È un principio che mi ha insegnato mio padre. Fai più di quello per cui sei pagato. E poi aggiungeva, è un investimento per il futuro. Anche se siete lavoratori dipendenti facendo più di quello per cui siete pagati, diventerete una persona preziosa. Meritevole di una promozione. Meritevole di fare carriera. Siete preziosi per il mercato. Ma soprattutto in Herbalife, facendo qualche cosa di più, vi dico il primo passo. Sviluppare contatti. Fare in modo che il telefono squilli. Sono tutte cose che voi avete già fatto. Con annunci, volantini, contatti personali, suscitare interesse. Numero due, convincerli a comprare. Ora hanno comprato il prodotto e voi avete incassato i soldi. Ma non finisce qua. Adesso dovete investire tempo per aiutare gli altri a usare i prodotti in modo da avere più probabilità di ottenere una buona testimonianza. Il tempo che investite in questa fase darà i frutti più tardi. Il tempo che investite in questa persona a usare il prodotto potrebbe non essere numerativo il primo giorno. A meno che non l'ha convinciata a comprare un altro prodotto Herbalife. Una volta che avete trovato un cliente Herbalife, potrete dirgli, conosce lo shampoo Herbalife? Perché non lo prova? È facile parlare di un altro prodotto mantenendo i contatti mentre create la testimonianza. Potete vendere un altro prodotto e poi un altro ancora. Sono prodotti che il cliente userebbe comunque. Tanto vale che siano prodotti Herbalife. Ma il vero obiettivo di questo investimento di tempo è creare una testimonianza. Certo esistono dei clienti duri da convincere. È dura convincerli a continuare a usare prodotti. Chiamate Mary e le dite Mary sta usando i prodotti e lei no con me non funzionano. Le assicuro di sì. Invece no proprio ora sono sulla bilancia e non ho perso un grammo. Ecco il punto a voi dite, Mary, i prodotti non funzionano finché lei rimane sulla bilancia. Scende dalla bilancia e vedrà che cominceranno a funzionare. Si tratta di un lavoro pesante che richiede tempo, impegno. Vi propongo un detto. Più una cosa è sudata più acquista valore. Lo stesso vale per le testimonianze. Un cliente che vuole prodotti gli siano consegnati a mezzanotte. Sono sicuro che ne sapete qualcosa, vero? creare un distributore richiede lavoro e anche creare un cliente richiede lavoro. Ma prendete nota, è un lavoro che frutterà tantissimo. Vendendo i prodotti potete guadagnarvi da vivere. Creando testimonianze potete fare una fortuna. La fortuna viene da quel lavoro in più. Convincere le persone a usare i prodotti, creare una testimonianza, invitarle a provare con l'attività, assisterle fino a quando ottengono qualche successo. Dunque, abbiamo parlato dell'uso del linguaggio per far comprendere il problema e far vedere le soluzioni. Ma la comunicazione comprende due altri fattori importanti. Prima, aiutare le persone a capire se stesse. Gli errori che possono avere commesso in passato hanno trascurato la forma fisica. Io ora sono sovrappeso. Dobbiamo aiutare queste persone a vedersi come sono. Ma qui entra in gioco al miracolo della comunicazione. Aiutare le persone a vedersi migliori di come sono. Con il linguaggio possiamo riportare le persone nel passato, aiutarle ad analizzare i loro errori. e con il linguaggio possiamo portarle nel futuro, aiutarle a vedere la promessa del futuro. Il mio primo maestro era bravissimo in questo. Quando facevo un errore di valutazione, lui me lo faceva notare subito. Quando incontrai la prima volta e mi chiese i motivi del mio scarso rendimento, io gli mostrai la mia busta paga. E gli dissi, ecco quello che paga l'azienda. Per questo non rendo. Ma lui mi corresse, no, questo è quello che l'azienda dà a te. Non ci sono forse altri che prendono due, tre, quattro volte più di te? Certo. L'azienda non paga tutti allo stesso modo. Questo è quello che dà a te. Non ci avevo mai pensato. Poi aggiunse, se vuoi raddoppiare o triplicare quella somma, non dovresti anche raddoppiare o triplicare il tuo valore? Immagino di sì, risposi. E lui, allora dovresti lavorare su questo. Non devi lavorare sull'azienda, devi lavorare su te stesso. Con il linguaggio aveva messo a nudo gli errori della mia filosofia. Io pensavo che il mio stipendio fosse determinato dall'economia e invece scoprì che era determinato dalla mia filosofia. Ma la funzione principale del linguaggio è aiutare le persone a vedersi migliori di come sono, a vedersi persone di successo, a vedere se stesse attraverso i vostri occhi, finché non riescono a vedersi con i propri. A volte mi dicono, non riesco a vedermi President's Team. Io ho risposto, io ho risposto, dovresti cambiare occhiali. Prova a usare i miei occhiali da President's Team. Se ti prestassi questi occhiali da President's Team e tu li mettessi, diresti subito, è vero, sono President's Team. Noi aiutiamo le persone ad usare i nostri occhiali. Prestiamo loro questi occhiali affinché si vedano vincenti, affinché si vedano indipendenti economicamente, affinché si vedano in una grande organizzazione. Lo vedono attraverso i vostri occhi. Per questo usiamo le testimonianze da tutto il mondo, le persone partite dal nulla che hanno realizzato grandi cose.